Una riunione a sei per celebrare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha annullato il decreto di valutazione di impatto ambientale, bocciando di fatto l'ampliamento della pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola. I sindaci di Sesto Fiorentino, Prato, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggia Caiano e Carmignano si sono incontrati al Palazzo Comunale di Sesto. Tra le mani il loro trofeo, la sentenza che di fatto da loro ragione è che è un punto fermo da cui ripartire per aprire un tavolo con tutti i soggetti interessati allo sviluppo sostenibile della Piana e per discutere in particolare su come usare gli investimenti che il Governo aveva già stanziato per la nuova pista. Un'opera del genere, oltre sbagliata politicamente, su cui ovviamente possiamo dividerci sui giudizi politici, sulla necessità, sull'opportunità e la nostra posizione è chiara, ma era un'opera che è stata portata avanti con forzature istituzionali, forzature amministrative, con procedure create ad hoc che erano illegittime. Capisco la visuale di chi prende magari a livello nazionale oppure magari di un pezzo dei nostri imprenditori che vedono solamente l'effetto positivo, che pure c'è di un'infrastruttura come questa, ma noi sindaci ci dobbiamo far carico delle preoccupazioni di un pezzo di città e delle nostre città che vedono il rischio forte e che questa sentenza a un certo punto certifica di un abbattimento della qualità della vita sotto i temi dell'inquinamento, dell'impatto ambientale, eccetera, eccetera. Ecco, questa è stata la discussione che abbiamo sempre fatto. Il fronte del Sì non è ovviamente rimasto fermo a guardare, ma ha annunciato battaglia con un ricorso al Consiglio di Stato, ma i tempi non saranno brevi. Prima di arrivare a un pronunciamento potrebbe passare più di un anno.